La crisi idrica con le alte temperature sta mettendo a dura prova l'Irpinia. Molte difficoltà si stanno verificando soprattutto nell'Arianese e nelle zone alte di Montella, Mercogliano, Monteforte e Irpino. La scorsa notte un altro guasto alla conduttura di Montoro che ha portato a un nuovo blocco dell'erogazione idrica. Ma il presidente dell'Alto Calore lancia un nuovo appello contro gli sprechi che secondo lui vengono attuati soprattutto di notte. Basta pensare che in alcuni comuni il consumo idrico è maggiore di notte che di giorno. Vi lascio immaginare questo che significa. Allora dobbiamo andare a colpire, questo è il messaggio che vorrei lanciare ai sindaci. Il contributo che voglio avere è che noi sì conosciamo il territorio, sì conosciamo tutti gli allacci che sono stati fatti, le utenze, però spesso il controllo non può essere effettuato da soli. Abbiamo bisogno dei vigili urbani, anche della collaborazione delle persone. E poi rispetto alle polemiche con il sindaco di Ariano Irpino dice Il problema è dovuto alle reti che sono invecchiate, ma senza adossare responsabilità. E' certo, è come se qualcuno vuole dare responsabilità a me per quello che non è stato fatto negli 20 anni precedenti. E' un ventennio circa, se non pure un trentennio, che non vengono rinnovate le reti. Le reti normalmente durano 40 anni. Quando è passato il periodo e non sono state sostituite, Chiaramente c'è una responsabilità che deve essere fatta in passato. Non è stata fatta, perché come qualcuno giustamente dice, anche su commenti su Facebook, che i sindaci preferiscono molto probabilmente fare i marciapiedi e non vogliono fare... Questa è la regola del passato. Oggi bisogna prendere coscienza che prima di fare qualsiasi cosa bisogna rinnovare i sottoservizi.